L'unione fa la forza e questo lo spirito delle associazioni turistiche Proloco di Carosino, Leporano e Talsano che tornano a riunirsi per Bacco Tour, itinerari del gusto in terra ionica. Per il terzo anno siamo capofila di Rete e quest'anno abbiamo pensato di organizzare il progetto come itinerario turistico. Bacco Tour, itinerari di gusto in terra ionica per cui noi come Proloco di Leporano abbiamo organizzato Leporano Expresso. Si inizia a Carosino sabato prossimo alle 9 presso il vigneto dell'azienda agricola Nicchiarico dove i partecipanti potranno vivere l'esperienza della vendemmia, della simulazione della vendemmia sentendosi i contadini per un'ora, due ore. Parliamo di degustazione, parliamo di musica, parliamo di spettacoli, di teatro, parliamo di tutta quella che è la forza del nostro territorio e l'energia che le Proloco sprigionano sul territorio e per il territorio. Questa collaborazione rappresenta innanzitutto la rete, quindi è un'iniziativa finanziata dalla regione Puglia e soprattutto premia la rete, quindi mettersi insieme. Si parte da Carosino il 9 settembre, si prosegue con Leporano il 10 settembre, chiude l'itinerario, Talsano il 17 settembre. Ci sarà anche musica e spettacolo, quindi invito i nostri concittadini, così come tutti i cittadini della provincia, a partecipare a questi importanti eventi. Venite tutti qui a trascorrere questo bellissimo appuntamento, poi ci sarà anche degustazione di prodotti tipici, vi aspettiamo qui a Leporano.